L'ultima del girone di andata, il Cascina torna tra le mure amiche e ospita il Poggi Bonzi di Mr. Calderini. Per i padroni di casa, quest'oggi Maia Nera Azzurra, titolare tra i pali Dragone, tra i nuovi in campo dal primo minuto, anche Bernardini, Lici e Cesario. Primo spunto dalla bandierina per il Poggi Bonzi, Dragone con il pugno, manda però di nuovo all'angolo. Al 22esimo, Bardini per il Cascina prova la conclusione da fuori, senza però inquadrare lo specchio della porta. Qualche minuto più tardi, Remorini dalla sinistra in bocca Mencagli sul secondo palo. Il numero 7 del Cascina non riesce però di testa a colpire bene. Al 38esimo, Regoli per gli ospiti, raccoglie la palla limite dell'area e prova in vano la conclusione a rete. Negli ultimi minuti del primo tempo, torna a farsi vedere Mencagli, con un cross ghiotto che nessuno riesce a intercettare. Dal canto suo, il Poggi Bonzi chiude la prima frazione di gioco con una conclusione di Mazzolli, che Dragone riesce a trattenere in due tempi. Nei primissimi minuti della ripresa si mette subito in mostra Gianni, subentrata a Cesario, senza però trovare il guizzo vincente nei confronti di Pacini. Al 50esimo, Remorini dalla distanza mette in mezzo con un calcio lungo. Pezzati non riesce a infilare in rete il colpo di testa. Un minuto soltanto e Gironi crossa morbido per Mencagli, che si fa anticipare dal numero 1 del Poggi Bonzi. Il Cascina è determinato e prova a cercare ancora il vantaggio. Bernardini non trova la coordinazione giusta per infilare in rete il cross di Remorini dalla bandierina. Al 65esimo, il Poggi Bonzi torna a farsi pericoloso su calcio piazzato. La difesa nera-azzurra è brava però a sventare il pericolo. Per gli ospiti ci prova ancora Riccobono, con un calcio di punizione, quando manca poco più di 20 minuti, alla fine della partita, ma il Cascina gli nega la gioia del gol. Al 70esimo, Remorini prova la conclusione personale, ma Pacini trattiene con attenzione. All'81esimo, arriva la rete che sblocca e chiude la partita, ma Zolli infila alle spalle di Dragone un calcio di punizione, rimediato al limite dell'area qualche secondo prima.